Ieri all'ex Madi Sassari si è svolto il JobSkill, un incontro tra gli ITS della Sardegna e i giovani studenti. Servizio di Bebo Madettu. Tappa dei JobSkill dell'ITS Sistema Sardegna, che ha coinvolto tantissimi ragazzi, infatti noi avevamo un obiettivo inferiore, invece abbiamo raddoppiato, c'erano oltre 400 studenti provenienti dagli istituti della città di Sassari. Abbiamo affrontato il 4 più 2, cioè la riforma che il Ministero della Pubblica Istituzione sta presentando ed è il 4 più 2 che dà l'opportunità al ragazzo non di diplomarsi più in 5 anni, ma in 4 anni, con l'obiettivo di seguire successivamente due anni di specializzazione all'interno dell'ITS per entrare subito nel mondo del lavoro. E molte volte, soprattutto l'80% dei casi di ogni percorso formativo, dà l'opportunità, l'80% degli iscritti e di trovare l'occupazione proprio nella specializzazione in cui lui ha imparato. Abbiamo fondato l'ITS e alimentiamo l'ITS con i nostri ragazzi che si diplomano e che trovano opportunità di occupabilità, perché molti ragazzi hanno trovato posto di lavoro dopo il diploma. Peraltro la nostra scuola, il tecnico agrario, è oggetto di un importante intervento in scuola di ristrutturazione, un intervento importante nella provincia di Sassare e la regione Sardegna stanno intervenendo per darci la possibilità anche di avere una scuola funzionale al passo coi tempi. L'ITS e TAC Sardegna ha sede a Dolbia, quindi in Gallura, un territorio a forte vocazione turistica. Abbiamo i corsi attivi su Orosei, su Carbonia, in partenza quello di Oristano e su Cagliari. E ancora di più la novità è proprio questa integrazione, questa collaborazione insieme all'ITS e TAC di Sassari, quindi agroalimentare e turismo. E quindi una figura che si deve occupare di potenziare il nostro territorio agroalimentare, l'enologia, le strade del vino, la strada del Vermentino, del Cannonau, del Malvasia, proprio dal punto di vista turistico. Anche delle figure che possano occuparsi di turismo, non solo per le nostre bellezze naturali, non solo per il nostro mare, ma anche per la promozione dei nostri prodotti tipici.